195 corti, di cui 72 girati da autori under 35 e 36 da registe donne, per un totale di 41 paesi rappresentati, 35 premieri italiane e 2 internazionali. Questo il ricco programma della Kermess di Cinema Fioranese Ennesimo Film Festival, in programma dal 26 aprile al 7 maggio, la prima settimana dedicata agli studenti delle scuole con cui l'ennesimo collabora da anni. Poi via con le proiezioni, fra incontri con attori e registi e spettacoli, fino alla proclamazione dei vincitori il 7 maggio. Quest'anno l'ennesimo Academy, cioè il nostro progetto di educazione all'immagine, è arrivato a toccare 235 classi e oltre 6.000 fra studenti e insegnanti, non solo del distretto ceramico, ma siamo arrivati fino a Modena e anche alla Romagna, con Rimini, con Cesena e fuori regione, con Puegnago del Garda e Ancona. Questo sarà uno dei cuori pulsanti del Festival, che poi partirà con le serate qui a Fiorano, nella nuova sede del Cineporto dell'Emilia-Romagna, dove saremo quest'anno, dalla sera del 30 di aprile. Apriremo con i piloti della Ferrari Driver Academy, quindi i futuri campioni della Formula 1, e chiuderemo il 7 di maggio con la serata di premiazione. Per questa ottava edizione il Festival sarà ospitato principalmente dal Cineporto dell'Emilia-Romagna, struttura ideata dalla regista e imprenditrice Alessandra Stefani, che ha già accolto la produzione del film di Michael Mann su Enzo Ferrari. È un grande onore partecipare, collaborare, fare sinergia col territorio. Il nostro Cineporto dell'Emilia-Romagna è stato inaugurato in ottobre, è un luogo unico nel panorama dei luoghi dedicati al cinema. Pensiamo sia un'opportunità sia per il Festival che per il Cineporto che per il territorio. Tutti gli attori in campo hanno senz'altro una collaborazione molto positiva per questa edizione del Festival, quindi siamo molto contenti che questo sia stato possibile.